Ciao a tutti amici e amiche di Volumbrite, siamo qui in sala antico teatro di Corso Unione Sovietica 220D al servizio Postpartout e si è appena concluso il nostro tanto amato convegno sul giornalismo e la disabilità organizzato appunto per il decennale della nostra associazione, Associazione Volumbrite. Tra i tantissimi ospiti super importanti e super famosi che si sono susseguiti oggi abbiamo il piacere di avere con noi Carlotta Gilli. Ciao a tutti, piacere mio. Carlotta, atleta di nuoto, olimpico e paralimpico, campionessa pluripremiata. Ultima medaglia vinta? Sono i quattro ore l'argento e il bronzo che ho vinto ai campionati mondiali di Londra che si sono conclusi il 15 settembre, quindi recentemente. Io ti ho chiesto ultima medaglia, in realtà ultime medaglie, quindi congratulazioni. Allora, in questa giornata abbiamo proprio parlato di come il mondo del giornalismo parla dello sport, parla dello sport e parla dello sport soprattutto paralimpico, quello legato al mondo della disabilità. Secondo te, oltre a dare la responsabilità ovviamente ai giornalisti di raccontare nel modo corretto le notizie e tutto quello che riguarda il mondo paralimpico, l'atleta può prendersi un po' la responsabilità appunto di farsi promotore di corrette modalità di comunicazione e soprattutto promotore ovviamente dello sport e delle varie discipline paralimpiche? Che cosa ne pensi? Assolutamente sì, sono d'accordissimo con ciò che hai detto, nel senso che il ruolo dei giornalisti è un ruolo fondamentale, ovviamente non tutti i giornalisti possono scrivere di sport, di sport paralimpico, cioè deve essere un giornalista comunque formato, competente, competente soprattutto anche nello sport specifico, cioè se scrivi di nuoto devi capire qualcosa di nuoto. E dall'altra parte noi atleti abbiamo un ruolo fondamentale, nel senso soprattutto il giorno d'oggi, soprattutto la mia generazione, comunque le generazioni successive che sono già nate sui social, quindi ormai le persone seguono quasi più i social che non i giornali, cioè alla fine sono le persone un po' più datate o di generazioni precedenti. Quindi tutto il lavoro che noi atleti possiamo fare sui social è sicuramente di stimolo per le generazioni future, perché comunque saranno loro i primi spettatori, quindi chissà che sarà proprio quello a far sì che magari tanta gente si avvicini al mondo paralimpico. Tu hai un grande seguito sui social, hai le pagine Instagram, come lo usi? Generalmente cosa fai sui social? Sì, assolutamente, io ho la mia pagina sia Instagram che Facebook, sono appunto Carlotta Gilli Official, quindi tutti quelli che mi volete seguire benvenga. E niente, lo uso un po' per raccontare ciò che faccio, ovviamente sul profilo più questi qua ufficiali c'è la mia vita da atleta, non meno la mia vita personale, quindi quando vado a collegiali, quando vado a far gare, quando mi alleno, oppure anche per fare ringraziamenti a tutti magari gli sponsor che ci aiutano con il materiale tecnico, piuttosto che anche solo un altro tipo di sostegno, e quindi ovviamente è una cosa ormai al giorno d'oggi fondamentale. Ok, durante il tuo intervento nel convegno, ricordando che sei comunque un atleta che gareggia sia per il nuoto olimpico che paralimpico, hai proprio portato la tua testimonianza e ci hai detto che non trovi differenze durante le gare, cioè durante le gare sei lì, nuoti e che sia una gara paralimpica o olimpica per te non fa la differenza, l'importante è andare e vincere, come abbiamo ben visto. Ma secondo te, ti faccio una domanda un po' cattivella, un po' provocatoria, secondo te perché esistono ancora notizie sportive di serie A e di serie B? E da cosa dipende questa cosa? Dipende dallo sport, dipende dal fatto che ci sia la disabilità? Cosa ne pensi? La cosa principale che penso è che sia un fattore culturale, nel senso che, ad esempio, questo è brutto da dire, ma purtroppo noi in Italia lo sport paralimpico, come hai detto tu giustamente prima, ha visto un po' di serie B, cose che in altre parti del mondo non è. Questo è una cosa che a me era trista molto, perché sono molto patriottica, quindi quando posso rappresentare l'Italia cerco sempre di farlo al meglio, quindi dire queste cose ovviamente non mi fa piacere, però ovviamente sono la realtà. E i fatti poi si vedono. Sicuramente l'avvicinamento al mondo paralimpico non è facile, perché magari io posso dire, ma perché non fate lo sport paralimpico? Ma io sono stata la prima che non mi è bastato questo, cioè sono stata con lei che ha dovuto mettere i piedi, entrare in una vasca, annusare l'area di questo mondo paralimpico, per poi dire sì, ok, ci farò parte anche io. Dicevi che sei entrata e hai iniziato proprio seguendo le orme di tuoi conoscenti, o comunque dopo aver visto le varie gare. In questo, se posso permettermi, associazioni come la nostra o personaggi come te, atleti e atlete come te, hanno un ruolo fondamentale, perché comunque cerchiamo di far conoscere il mondo paralimpico, far conoscere la disabilità e far conoscere tutto quello che c'è intorno. E niente, noi abbiamo finito. Ti ringraziamo, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per le prossime competizioni e rappresentaci come hai fatto fino ad osso. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.